Cari amici, oggi mi tocca parlare e a voi vi tocca ascoltare un discorsino sulle elezioni che ci hanno già abbastanza rotto le scatole, però al di là di questo ci sono alcuni elementi che meritano di essere presi in considerazione. Intanto il fatto che Van Nassi abbia preso una valanga di voti e questo conferma quello che noi avevamo ipotizzato, ma non perché siamo dei mali, ma è evidente, Van Nassi dice delle cose che sono naturalmente il pensiero della maggioranza degli italiani, è fatale che abbia preso dei voti e abbia contribuito a tirar su un po' le ossa alla Lega che sta attraversando un periodo abbastanza difficile. Quindi noi facciamo i complimenti a Van Nassi ma soprattutto a coloro i quali l'hanno votato, che hanno capito che non siamo di fronte a un diavolo, ma di fronte a una persona di buon senso che dice delle cose che più o meno pensiamo tutti. Al di là di questo c'è un altro fatto che, diciamo così, ci ha stupiti più quei curiositi. La cosiddetta Salis, quella ragazza che è stata in galera in Ungaria, che poi è stata messa agli arresti domiciliari, insomma la storia la conoscete. Ebbene questa signorina, signora, signorina, è stata eletta con i verdi alla sinistra ed è riuscita, diciamo così, a farsi eleggere. Quindi sarà un parlamentare europeo, lei che non si capisce quali meriti abbia se non quelli di essere stata in galera. E di solito in galera non si va come un premio, no? Dice sei stata una cittadina brava e ti mettiamo in galera, non mi risulta che sia così. Questa qui ne ha combinato di tutti i colori nella sua vita, però siccome è comparsa in televisione con le catene, come tutti, diciamo, coloro che vengono portati in tribunale, non è l'unica a succedere così anche in Italia, però ha intenerito i cuori delle sciure, specialmente milanesi, che l'hanno votata in massa proprio per liberarla, per una questione umanitaria. Benissimo, a noi non è che poi ci dispiace tanto, tanto lei nel Parlamento europeo conterà come il 2 di picche, sono convinto, quindi non è questo il problema. Però si segnala questa vicenda perché il nostro paese è vero che ha una classe politica di deficienti, ma anche gli elettori dimostrano di avere tra di loro una quota di imbecilli abbastanza cospicua.